Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di materassin da trekking di casa Ferrino. Ho qua il modello Air Light Pillow e il modello Swift 60. Adesso insieme ne vediamo caratteristiche, pregi e difetti di tutti e due. Iniziamo parlando del modello Swift 60. Per quanto riguarda le caratteristiche troviamo un peso di 780 grammi, un valore R dichiarato da Ferrino di 1,9 e infine esiste anche la versione Light che è un 150 grammi più leggera e ha un valore R un pochino inferiore. Iniziamo dalla cosa che più mi è piaciuta di questo materassino, ovvero come ci si dorme. Davvero io ci ho dormito benissimo su questo materassino. Non gonfiandolo completamente ma lasciando un pochino morbido, questo materassino prende benissimo le formule del nostro corpo, ci si riesce a dormire sopra delle notti veramente, veramente ottime. Io ci ho dormito un bel po' di notti su diverse superfici, anche dall'erba, anche un po' alla roccia, quindi l'ho provato un po' tutte e vi assicuro ci si dorme molto bene. Nella parte superiore ha anche tutto un tessuto zigrinato per far sì che non si scivoli quando si dorme sopra, il problema è che questo tessuto zigrinato è abbastanza rumoroso. Quando ci si muove si fa un bel po' di casino e questo potrebbe disturbare una persona che abbiamo vicino. Altra cosa che mi è piaciuto è il sistema di gonfiaggio a pompa col piede perché davvero molto facilmente nell'arco di 2-3 minuti lo gonfiamo senza dover far fatica, quindi ottimo. E mi è piaciuta anche l'altezza del materassino perché comunque è alto una decina di centimetri, 11 centimetri in totale quando lo gonfiamo proprio al massimo e comunque abbiamo una bella altezza del materassino. La cosa che non mi torna è il valore R. Ferrino dichiara 1,9 però mi sembra un po' strano con tutta questa altezza del materassino, però non avendo modo di poterlo verificare perché non abbiamo gli strumenti per poterlo fare dobbiamo fidarci di quello che dice l'azienda anche perché Ferrino ne ha fatte certificare i valori, quindi sono comunque certificati. 1,9 è un valore che mi sembra un po' strano, però comunque il valore è quello e ci attestiamo su quello. A livello di materiali mi sono trovato molto bene, come vi dicevo ci ho dormito anche su delle asperità, su qualche roccetta eccetera e non ho avuto nessun problema. Mi piace poi come vi dicevo che lasciandolo un pochino sgonfio riesca anche ad attutire queste asperità del terreno e comunque non riusciamo a dormire su una superficie abbastanza liscia e morbida. Quindi anche i materiali mi hanno convinto tutta la parte sia superiore che inferiore è fatta bene. Altro aspetto non da poco che sono sicuro che molti di voi apprezzeranno che è alto 200 centimetri, quindi può andare bene anche per persone alte 2 metri. Io personalmente l'ho apprezzato tantissimo, io che sono 1,90 perché comunque in commercio diciamo che i matrassini con questa altezza se ne trovano pochi. Questo poi naturalmente ha sfavore del peso, come vi dicevo 780 grammi. È un po' alto, però comunque tenete conto che soltanto i matrassini con correnti magari pesano un centinaio di grammi in meno, ma sono anche 15 centimetri più corti. Quindi diciamo che a parità di lunghezza il peso è congro. Una volta richiuso, giusto per darvi l'idea di quanto è grosso, è grosso come una bottiglia da un litro e mezzo, una classica bottiglia che possiamo avere a casa. Anche qua, forse le dimensioni da richiuso mi sarei aspettato un qualcosa di più, nel senso un pochino più piccolo. Diciamo che, dai, potrebbe essere anche passabile come dimensioni, visto che è comunque 15 centimetri più lungo rispetto allo standard, però vi assicuro che comunque non è proprio piccolino da richiuso. Passiamo ora al modello Air Light Pillow. Esiste anche una versione senza il cuscino, che pesa un pochino meno, tutto per un materassino con un air value di 1,9, certificato a ferrino, per un peso di 520 grammi. La recensione di questo Air Light Pillow sarà molto veloce. A me è esploso. Letteralmente esploso. Cosa vuol dire? Io ci stavo dormendo sopra una notte, dopo circa 40-45 minuti che mi ci sono sdraiato sopra, sento all'altezza del mio orecchio un botto, proprio BOOM! Non capivo cosa fosse, quando l'ho sentito non l'ho capito. Pensavo che fosse successo qualcosa alla tenda, boh, vabbè. Mi rimetto a dormire e dopo 5 minuti ero per terra. Proprio per terra. Cioè il materassino non c'era più, era in realtà completamente piatto. Sono andato anche a cercare dove fosse il buco, perché a quel punto avevo capito che era il materassino. E il buco nel materassino è nella parte superiore del pillow, del cuscino. Quindi praticamente è letteralmente esploso. Cioè non è che si è bucato sotto per una qualche roccia, non è che... Perché il buco è stato vicino alla mia testa, nella parte superiore. E non avevo neanche gli occhiali da dire, magari l'occhiale era tagliato, non dormo con gli occhiali. Quindi è esploso, letteralmente esploso. Comunque, come ci si dorme su questo materassino? Io vi assicuro che anche quella mezz'ora non sono stato tanto bene. Questo perché è un materassino che non prende tanto le forme, a seconda molto anche quello che è il terreno. Quindi dovete metterlo per forza su un terreno molto piatto, un terreno molto semplice, perché davvero anche semplicemente una radice piccolina, una piccola roccia, si sente tutto. Molto rumoroso anche lui, quando vi girate, quindi anche qua non è così ottimo se avete una persona vicino. In generale davvero, poi sarò sincero, anche questo pillow, questo cuscino, non è che mi abbia soddisfatto tanto, perché comunque è abbastanza basso. Diciamo che mettendoci magari sotto qualcosa, allora potrebbe andar meglio. Cioè faccio un esempio, se sotto ci mettete lo zaino e così riuscite ad alzare un pochino il cuscino, ci si riesce anche a dormire bene. Però davvero, a me non ha granché soddisfatto. E in questo momento che stiamo facendo la recensione, saranno già passati due minuti, penso da quando ho iniziato con questo pillow, e si sta completamente sgonfiando. Cioè, era completamente gonfio. Per quanto riguarda il gonfiaggio, lo possiamo gonfiare molto semplicemente con la sacca data in dotazione. Quindi da questo punto di vista si gonfia davvero molto facilmente, con due o tre pompate dalla sacca l'abbiamo gonfiato. Una volta chiuso, è molto piccolo, è più piccolo di una borraccia da un litro, quindi comunque a livello di dimensioni ci siamo. Valore R di 1,9. Per questo tipo di materassino ci può stare, perché non abbiamo provato altri tipi di materassino come questo di altri marchi, che avevano un valore R inferiore. Però, ripeto ragazzi, cioè, qui è tutto buco. Quindi il risultato è avere un materassino che è molto probabile che si buchi molto facilmente. Ma arriviamo dunque alle conclusioni per questi due materassini, iniziando dal modello Air Light Pillow. Ve lo consiglio? Beh, no, cioè, sinceramente no, come vi ho detto mi si è bucato subito. No, cioè, io mi ci sono trovato malissimo, davvero. Penso che questo modello non ve lo consiglierei mai, davvero. Va bene, viene venduto a un prezzo comunque abbastanza basso, perché lo si trova tra i 55 e i 60 euro. Però un materassino che si buca mezz'ora, 40 minuti dopo che hai iniziato a usarlo, no, davvero bocciatissimo. Modello Swift 60. Avrebbe ancora senso, ci potrebbe ancora stare, viene venduto a un prezzo tra i 70 e gli 80 euro, ma avendo un valore R così basso, dichiarato da Ferrino, e noi comunque non abbiamo le possibilità di poter verificare se sia vero o falso, dobbiamo comunque credere nelle parole di quello che viene detto dalla casa madre, è diciamo che ha un valore R veramente basso, veramente, veramente basso. Cioè, esistono tanti altri materassini che hanno lo stesso identico prezzo, ma che hanno un valore R di 3 o superiore. Quindi, no, nemmeno lui vi consiglio. Se poi volete prenderlo, comunque, a mio parere, vi troverete bene. Vi troverete bene a dormire una notte d'estate, perché comunque è molto comodo. Ma come valore R è veramente molto basso rispetto al prezzo, quindi anche lui, purtroppo, non ve lo consiglio. Detto ciò, ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questo video. Vi ringrazio per l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!